Per Massimiliano Maddaloni, napoletano di origini ma via regino di adozione, l'esperienza in Cina come allenatore in seconda di Marcello Lippi al Guangzhou Evergrande è stata davvero un'esperienza unica nel suo genere. Con il club cinese ha vinto quattro campionati, una Coppa Nazionale e una Champions League Asiatica. Dopo che Marcello Lippi ha deciso di interrompere il rapporto con il Guangzhou, sostituito in panchina da Fabio Cannavaro che dopo sette mesi con la squadra in testa e con la qualificazione ai quarti di finale della Champions è stato esonerato, Maddaloni era stato confermato nello staff ma anche lui è stato quindi esonerato e l'avventura cinese è terminata, è tornato a casa a via reggio fra gli amici. È stata veramente un'esperienza favolosa perché siamo arrivati tre anni fa quando il calcio in Cina era all'inizio degli investimenti e ancora non era molto conosciuto e credo che in questo Marcello è stato veramente il pioniere del calcio che è oggi in Cina. Da quel momento in poi le vittorie che si sono fatte anche a livello asiatico vincendo la Champions League hanno portato un po' tutti a investire sul calcio in Cina e questo va sicuramente a merito di Marcello che è stato il primo a far conoscere un po' il calcio a livello internazionale cinese. Il tuo futuro è presto per delinearlo? Il mio futuro è sempre comunque legato al mister Lippi e a Marcello, aspettiamo un po' per adesso siamo tornati da poco, vediamo un pochettino come si evolvono tante situazioni e poi decideremo sicuramente con calma e vedremo che cosa poi il futuro ci darà come soluzioni credo all'estero non qui in Italia.